Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Francesco Totti mi ha chiamato. Una bomba la frase pronunciata da Antonella Fiordelisi al grande fratello VIP7, durante un momento di confidenze con Edoardo Donnamaria e Jaele Dedonà. Parole che l'ex spadista, ora influencer, ha detto dopo aver spiegato alla coppia che potrebbe fare un figlio e chiamarlo Francesco. Il nome dell'ex capitano della Roma fresco di separazione dall'ormai ex moglie Ilari Blasi è impegnato in una nuova relazione con Noemi Bocchi. La rivelazione ha fatto calare il gelo in quell'angolo di casa e la Fiordelisi, a Cortasi della GAF, ha poi provato a correre ai ripari chiudendo il discorso con un imbarazzato non è vero. Ma il sasso ormai era lanciato e la reazione del popolo dei social, come era prevedibile, non si è fatta attendere e tra le decine di commenti ci sono quelli di chi ricorda come alla concorrente del GFVP in passato siano stati attribuiti dei flirt con Iguain e Zaniolo. Ma se allora la Fiordelisi smentì, stavolta è stata proprio lei a servire l'assist agli appassionati di gossip. Ma il vero particolare che ha attirato l'attenzione del pubblico è stato il fatto che la ragazza dopo tale esternazione si è subito messa la mano davanti alla bocca.